Ciao e bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo insieme la seconda maglia del Manchester United per la stagione 22-23 in versione FUN. La maglia Huawei Adidas Manchester United 22-23 combina il colore principale bianco con applicazioni rosse e nere. Adidas opta per una tonalità di colore rosso ciliegia e nero per le tre stripes mentre il logo Adidas e il logo TeamViewer sono neri. Proprio come la divisa casalinga 2022-23 del Manchester United la divisa da trasferta ha uno stemma schermato. L'elemento distintivo della maglia è il design a triangolo bianco e rosso sul colletto nero e sui polsini delle maniche. Il Manchester United ha indossato spesso maglie bianche con Nike mentre Adidas aveva fatto una maglia bianca solo nella stagione 2015-2016. Che bella! Devo dire che nella mia classifica questa va al top. Prende 5 stelle. Dei colori semplici ma con questo avvicinamento di bianco predominante, righe rosse, righe nere veramente azzeccata. Non sappiamo ancora se sarà la maglia di Cristiano Ronaldo per la stagione prossima ma sicuramente una maglia da avere. La maglia peraltro è fatta molto bene. Era la prima volta che usavo questo nuovo fornitore e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso. E cosa importante la maglia è arrivata velocissima, è arrivata in 15 giorni e se vedete il prezzo qui sopra veramente veramente conveniente. Peraltro il prezzo include le spese di spedizione. Prima di lasciarvi vi ricordo che qui in basso in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la bestibilità, vi prego di regalarci un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. A presto!